Siete tantissimi? Cosa fate qua così tanti con tutte le cose belle che ci sono in televisione stasera? E' veramente strano. Serendipity. Se adesso voi andate su Google e cliccate la parola Serendipity è una delle parole più famose, più di successo al mondo. Ci sono ristoranti, negozi, forse qualcuno di voi ha visto un vecchio film del 2002, Serendipity, l'avete visto? Non è un granché, un film romantico, un film che nega la serendipità. Giusto? Vi ricordate com'è il film? Che i due si incontrano a New York, si innamorano e poi decidono di affidare le loro sorti al caso e mettono i loro numeri di telefono, uno sul reto di un libro e l'altro sulla banconota e fanno questo gioco per cui se uno dei due trova il numero dell'altro vuol dire che era destino che si incontrassero. Cosa succede? Che ovviamente era destino che si incontrassero. E' esattamente l'opposto della serendipity. La serendipity è che non c'è destino, è l'idea che non c'è proprio nessun destino e che non c'è nessuna strada precostituita nella scienza. Allora la parola ha un'origine molto divertente, molto particolare, è legata a una radice orientale, Sarandip-Serendip, che è l'isola di Ceylon, quella che adesso si chiama Sri Lanka, ok? Quindi Serendipo, l'italianizzato, era un luogo, un luogo mitico perché era nel 300, nel 400 e poi nel Rinascimento era associato a un luogo mitico, no? Pieno di ricchezze naturali e non soltanto, quindi una specie di Eden paradisiaco, esotico, là lontano nell'Oriente. Intorno al 300 cominciano a girare in Oriente delle novelle, molto belle, scritte da un grandissimo scrittore, si chiamava Mircush Rao, che è chiamato Il Dante d'Oriente. Sono quelle novelle, molte delle quali poi sono andate a finire dentro Le Mille e Una Notte, Sinbad, le abbiamo lette ai nostri bambini, è quel tipo di letteratura. Una di queste novelle narra una storia molto particolare, adesso ve la racconto perché è da questa storia che è cominciato tutto. È la storia, narra questo, a Mircush Rao, questo meraviglioso scrittore di viaggi d'avventura, narra la storia del viaggio, dell'avventura, dei tre principi di Serendipo, appunto, tre giovani ragazzi, figli del re di Serendipo, dello Sri Lanka. Succede in questa storia che il re ha allevato questi figli con la migliore educazione del suo paese, ma vuole che per diventare a loro volta re, nel loro regno o in altri regni, si facciano le ossa, come diciamo noi, quindi un'esperienza, diciamo, sul campo. Allora finge di essere arrabbiato e li manda in esilio via dal regno. Già qui capite che è il classico schema del rito di iniziazione, quindi l'idea che c'è un eroe che attraversa delle prove e deve raggiungere un risultato. Questi tre principi escono, vengono cacciati dal paese e escono e iniziano a peregrinare per il mondo negli imperi, nei regni vicini e vivono tutta una serie di avventure e mettono alla prova, mettono in mostra la loro cultura e la loro capacità di interpretare il mondo. In particolare sono bravissimi, scrive Kusrau, nel leggere gli indizi del mondo e ancora più precisamente riescono a prevedere, a proposito torniamo al punto, a indovinare l'esistenza di oggetti, di cose che non hanno mai visto. Quindi non lo so, una delle prime arrivano in India e a un certo punto vedono un cammelliere che gli viene incontro tutto affannato e gli dicono hai perso il tuo cammello? E lui dice sì, certo l'avete visto? E loro dicono sì l'abbiamo visto, certo è andato di là, ma siete sicuri? Com'era? Gli chiede il cammelliere. Beh era zoppo da una gamba, gli mancava un dente, ci vedeva poco nell'occhio destro, sopra c'è una donna incinta e aveva due carichi, uno di miele e uno di olio. Tutti questi indizi che avendo il cammelliere dice sì è proprio lui, l'avete visto per davvero? E va a cercarlo. Non lo trova, torna indietro, incontra di nuovo i tre principi, i quali gli dicono sì sì l'abbiamo visto e gli danno tutta una serie di altre caratteristiche specifiche del cammello. Il cammelliere torna a cercarlo di nuovo, non trova l'animale, a questo punto si convince che l'hanno rubato loro, perché non può essere diversamente, li denuncia all'imperatore dell'India che li incarcerà, li condanna a morte, il giorno prima della sentenza, dell'esecuzione, si scopre che il cammello era stato rubato da qualcun altro e che loro non c'entravano niente, non solo, ma che loro tre, i tre ragazzi non avevano mai visto quel cammello. E allora l'imperatore a questo punto è molto incuriosito e chiede ma come facevate sapere tutte queste caratteristiche del cammello? E loro gli dicono ma sì, stavamo camminando su quel sentiero, abbiamo visto che l'erba era brucata un po' di più a sinistra, quindi vuol dire che il cammello ci vedeva male sulla destra, era brucata in modo tale che si capiva che gli mancava un dente e vanno avanti e gli fanno capire che attraverso degli indizi avevano indovinato l'esistenza di quel cammello. Ora, non vi ricorda niente questa storia? Allora, la riprende Voltaire in Zadig, una mondovella bellissima del Settecento, Zadig è un saggio babilonese e le sue capacità straordinarie è quella di indovinare l'esistenza di una cagna, di un cavallo che non aveva mai visto. Vi ricordate l'inizio del nome della rosa? Anche nel film è così, ma soprattutto nel libro di Umberto Eco, Guglielmo da Mascheri sta salendo verso l'abbazia insieme con Azzo da Melk, scende giù Remigio da Varagine, il capo dei monaci, dei fattori, insieme con i suoi aiutanti, trafelato, Guglielmo lo guarda e gli dice è scappato Brunello, il cavallo più bello dell'abate. Sì, dice ma l'hai visto? Sì, sì, è là nello stramaio, è una bellissima bestia, è alto due metri e mezzo al garese, tutto nero, ha il crino e così e Guglielmo gli descrive Brunello. Loro vanno a prenderlo, in effetti è lì, lo trovano e Azzo da Melk dice a Guglielmo mentre stanno salendo su, ma come facevi a sapere che era il cavallo, che non abbiamo visto nessun cavallo? E Guglielmo gli spiega che aveva visto un crino impigliato, tutta una storia di indizi che gli avevano permesso di capire che era scappato il cavallo. Poi Azzo gli chiede ma come facevi a sapere che si amava Brunello? E a Guglielmo nel nome della rosa gli dice ma sì, i benedettini hanno poche fantasia e li chiamano tutti Brunello, quelli neri più belli, quindi ha capito tutto. Umberto Eco conosceva questa storia della serendipità e la usa all'inizio del nome della rosa, in un giallo, dove il tema degli indizi ovviamente è molto importante. Ora, provate a pensare, in cosa consiste il mestiere dello scienziato creativo se non esattamente quello che vi ho appena raccontato? Il bosone di X, l'aveva mai visto qualcuno? No, non l'aveva mai osservato nessuno. Sessant'anni fa X e altri due avevano previsto e immaginato l'esistenza di una particella che facesse da campo eccetera eccetera fondamentale ed era una predizione. Sono passati sessant'anni e dopo sessant'anni qualcuno l'ha effettivamente osservato. Avevano previsto l'esistenza di un'entità importantissima senza averla mai vista. Questo è il mestiere della scienza. Che parentela c'è tra questa no? Questa narrazione e questa scoperta. Oppure le onde gravitazionali, vi ricordate un alto premio Nobel degli ultimi anni. Le onde gravitazionali sono state osservate qualche anno fa ma erano state predette in ogni dettaglio da Einstein settant'anni fa. Einstein aveva detto se è giusta la teoria della realtà generale dovreste riuscire ad osservare queste onde che increspano lo spazio-tempo fatte in questo modo, le aveva misurate in anticipo e descritte in anticipo senza averle mai viste e senza poterle nemmeno tecnicamente osservare. Sono passati settant'anni prima di riuscire a fare uno strumento per misurarle. E avremmo potuto benissimo non vederle. Nel senso che poteva benissimo essere che la teoria era sbagliata su quel dettaglio e invece le abbiamo trovate e questo ha permesso di confermare la teoria in generale. Perché Einstein aveva previsto l'esistenza di un fenomeno che nessuno aveva mai osservato prima. Questa è la prima parentela con l'idea di serendipità. Essere bravi a osservare gli indizi del mondo e attraverso questo predire l'esistenza di un oggetto che non hai mai visto. Questa è la magia della scienza, magia non del mago hotel, ma magia razionale che richiede una grande intelligenza perché è chiaro che devi mettere insieme tanti indizi diversi e devi scegliere tra le varie ipotesi quella che ritieni più plausibile e poi devi avere ovviamente anche un po' di buona fortuna. Questa è la prima accezione di serendipità che vi voglio proporre, ma non è in realtà quella più importante. Perché poi il concetto di serendipità subisce una storia stranissima. Perché cosa succede? La faccio breve. Succede che la novella di Kusra viene tradotta in Europa, a Venezia. Qui entra in gioco l'Italia. La traduce un certo Cristoforo Armeno, che è un personaggio misterioso. Io nel libro racconto poi tutti i dettagli, quindi adesso la faccio veloce, ma probabilmente è uno pseudonimo di un editore, non lo sappiamo. Un esule armeno che conosceva le novelle di Kusrao e le traduce in volgare. Le traduce così, con questo titolo, il viaggio, le avventure, il viaggio dei tre principi di serendipo. A questo punto la parola entra anche nel dizionario italiano. Siamo alla metà del Cinquecento, hanno un grandissimo successo, quindi piacciono tantissimo, vengono lette oralmente ai bambini ed è Venezia, il ponte tra Oriente e Occidente, quindi è tutta la cultura orientale che rientra dentro la cultura europea. Viene tradotto in varie lingue, in tedesco, in francese, in inglese e due secoli dopo ancora, nel 1756, quindi l'epoca in cui Voltaire scrive Zadig, uno scrittore inglese, si chiamava Horace Walpole, non lo conosce più nessuno perché non ha avuto grande successo, è quello che ha stranezze delle bigiotterie, legge la novella di Armeno, tradotta da Armeno, la novella di Kusrau, dei tre principi di serendipo, rimane, si innamora di questa storia e scrivendo a un amico a Firenze dice, è meraviglioso, questa è la serendipity e usa per la prima volta in inglese questa parola serendipity e non avendo capito la novella, perché la fraintende completamente, dice, questo è il segreto della mia vita ed è il successo di tutte le persone creative e curiose, la serendipity, cioè cercare qualcosa e trovare tutt'altro. Ora, nella novella di Kusrau non c'è questa cosa qua, i ragazzi, tre ragazzi, non è che stanno cercando qualcosa, trovano tutt'altro, questo è un errore interpretativo di Walpole, ma questo errore interpretativo avrà a sua volta una storia di grandissimo successo, perché questa idea che a volte nella vita e anche nella scienza, ma in fondo nella vita di ciascuno di noi, tu ti fai un'idea, hai un obiettivo, vuoi arrivare da qualche parte, hai una domanda tua, un'ambizione, un desiderio e vuoi andare lì e poi mentre ti stai avvicinando scopri qualcosa che non stavi cercando e che è più importante forse di quello che stavi cercando e che devia la tua vita, oppure una scoperta scientifica, in una direzione completamente inaspettata. Questa è, come diceva Alberto prima, la definizione che usiamo ancora oggi di serendipity, nata per sbaglio alla metà del Settecento. Per un po' di tempo rimane appannaggio di gente tipo archivisti, bibliotecari, antiquari, bibliofili, quelli che vanno nelle bancarelle a cercare le cose. Amy Warburg, grandissimo storico dell'arte, dirà quella famosa frase che io non cito nel libro perché io mi occupo solo di quella scientifica, però Amy Warburg dice quando voi state cercando un libro e andate in una biblioteca il libro più importante è sempre quello che sta accanto a quello che stavate cercando. Quante volte è successo nella storia del mondo? E tra l'altro succede anche nel Novecento a Robert Merton, che è un grandissimo sociologo della scienza che stava studiando tutta un'altra cosa sugli effetti non intenzionali delle ricerche scientifiche e un giorno va su l'Oxor English Dictionary, sul dizionario più importante d'inglese, va alla S perché stava cercando una parola che iniziava con S E e a un certo punto legge serendipity e si innamora di questa parola, della sua definizione e diventerà il maggiore esperto di serendipità che poi ha scritto una monografia bellissima sulla serendipità molto particolare che io ho un po' usato ma poi lui la affronta in chiave sociale che non mi interessava. Mi interessava la parte proprio scientifica, che è il mistero della curiosità e dell'innovazione nella scienza. Dicevo, per un po' rimane sotto traccia questo concetto, arriva all'Ottocento, arriva al Novecento, molti la pensano e la usano senza chiamarla in questo modo. È famosissima la frase, per esempio, di Louis Pasteur, il grande microbiologo, lui sì che ne sapeva di batteri, di virus nobbre che sono stati scoperti dopo, ma Pasteur alla metà degli anni 50 dell'Ottocento pronuncia quella famosa frase che tutti i miei colleghi scienziati citano sempre. Nella scienza il caso aiuta le menti preparate. Quante volte? Forse l'avrete già sentita, la citano tutti. Il caso aiuta le menti preparate. E tutti pensano, vuol dire, cosa vuol dire Pasteur? Vuol dire che nella scienza è tutta una questione di buona sorte, giusto il fattore C? No, assolutamente, perché se andate a vedere questa frase, Pasteur voleva dire una cosa completamente diversa, è molto più interessante. Pasteur stava facendo un discorso agli studenti del college, perché già a quel tempo c'era la necessità di far iscrivere i ragazzi alle facoltà di scientifiche. E quindi gli fa un discorso motivazionale, dice ragazzi, il mestiere dello scienziato è bellissimo, non diventerete ricchi, però è talmente bello e curioso che appunto il caso aiuta le menti preparate, quindi non saprete mai cosa scoprirete. E poi spiega cos'è una mente preparata. E questo è un punto molto importante per il mio discorso. Pasteur dice, una mente preparata è una mente che ha un'idea, che ha delle teorie in testa, che ha delle ipotesi, e le mette alla prova dei fatti. Pensate anche alla vostra vita, no? Al di là della scienza. Cioè, voi avete delle convinzioni, avete dei pregiudizi, che non è sempre una parola negativa. Avete dei preconcetti, perché avete una vostra idea del mondo, avete una vostra teoria sulle cose. La stessa cosa fanno gli scienziati. Gli scienziati hanno una teoria e poi la mettono alla prova dei fatti. Quello che voleva dire Pasteur è che nella scienza i dati da soli non bastano mai. I dati non parlano da soli. Ci vuole la mente di uno scienziato che li legge, che li interpreta, che li filtra, no? Che li mette dentro un contesto teorico. Se fai così, dice Pasteur, il caso ti aiuta. Perché se sei creativo, se ci metti del tuo e non ti limiti a registrare soltanto quello che vedi, il caso ti porterà a scoprire delle cose importantissime. Questa è la frase fondamentale, no? Di Pasteur. Che è un'altra definizione molto bella di serendipità. Perché la serendipità è un mix di caso e sagacia. Di caso, di buona sorte, ma anche di capacità di coglierla, di beccarla al volo, di non lasciarla passar via. Un sacco di casi di serendipità, io l'ho studiato, sono stati vanificati e sono stati buttati nel cestino. Cioè un sacco di scienziati, nella storia della scienza, avevano sul tavolo, sul bancone, davanti a sé dei dati fondamentali. Avevano davanti a sé delle scoperte che avrebbero cambiato il mondo e non le hanno capite. Le hanno buttate via. E a volte sono passate anche 40-50 anni prima che qualcun altro le scoprisse di nuovo e le capisse. Un esempio bello, se vi interessa, è quello di Darwin stesso. Darwin, il capostipite del mio campo di studi, che era una persona intelligentissima, un osservatore fenomenale. Io ho scoperto, insieme con dei miei colleghi storici inglesi, andando a scartabellare, mi hanno fatto per anni e anni nei suoi scritti segreti privati, che Darwin, verso la fine della sua vita, negli ultimi dieci anni, stava lavorando un sacco sulle piante, era molto interessato alle piante, faceva i suoi esperimenti nella serra a Down House. A un certo punto, primi anni 70 dell'Ottocento, quindi lui more nel 1982, studiando la primula, studiando il pisello, il genere pisum e altre piante, calcola e ha davanti a sé le proporzioni delle leggi di Mendel, quelle che tutti abbiamo studiato a scuola. ve lo ricordate? Se io metto insieme una pianta che ha due caratteri, un seme rugoso, un seme liscio, un carattere dominante, l'altro è recessivo. Giusto? Quindi domina sempre quello dominante, non compare recessivo. Ma se io prendo due ibridi, l'incrocio viene fuori tre a uno. Tre dominante, uno recessivo. Poi se li mescolo ancora, vengono fuori proporzioni ancora più complicate, che è la terza legge di Mendel. Beh, Darwin aveva sul suo tavolo le leggi di Mendel, non le ha assolutamente capite. Addirittura a un certo punto c'è un botanico tedesco che gli manda un lavoro suo, gli dice, sai, ho scoperto questa cosa strana nella primula, ci sono dei caratteri dominanti e dei caratteri invece che rimangono sempre nascosti. E quando li mescoli viene fuori tre a uno, eccetera, eccetera. Cioè Darwin aveva davanti a sé le proporzioni delle leggi di Mendel, che era proprio quello che gli mancava per completare tutta la sua teoria. Non le ha capite, non le ha interpretate e le ha praticamente buttate via. Perché? Perché non era un matematico, non era un statistico, non gli piaceva la matematica, non aveva una mente matematica e soprattutto aveva una teoria dell'ereditarietà già in testa, sbagliata, completamente sbagliata. E quindi, quando vede i caratteri mendeliani, pensa che sia un'anomalia, un errore, e li butta via. Ecco una serendipità mancata, perché invece se avesse capito che quell'errore non era un errore, ma gli stava dicendo qualcosa alla natura, la natura gli stava suggerendo qualcosa di importante, avrebbe fatto un ulteriore, perché ne aveva già fatte tante, un'ulteriore scoperta fondamentale. E pensate che poi ci sono voluti 30 anni prima di riscoprire le leggi di Mendel, e poi 50 anni, un sacco di tempo, per capire che le leggi di Mendel e la selezione naturale andavano insieme. Bisogna aspettare gli anni 20, 30 del Novecento. E lui aveva tutto in mano nel 1865, e nel 1872, in quegli anni lì. Ecco, questo è come funziona la scienza. Qua vedete chiaramente un messaggio importante della filosofia della scienza, di come funziona la scienza. Pensate anche alla pandemia, tutto quello che si è discusso durante la pandemia. La scienza è meravigliosa, ma anche lenta e complicata, perché tu devi avere in testa la teoria giusta per capire quei dati. I dati da soli non bastano. Quando ti arrivano dei dati, li devi interpretare, li devi confrontare, li devi filtrare, li devi metabolizzare, e quindi ci vuole tempo, e ti sbagli facilmente, e devi confrontare delle ipotesi. Quindi la scienza è questo continuo lavorio di curiosità e di confronto con le evidenze. Ma non voglio farla troppo lunga. Quindi il concetto di serendipità è questo, cercare qualcosa nella scienza, adesso limitiamoci soltanto alla scienza, e mentre lo stai cercando trovi tutt'altro. Casi di serendipità, perché poi bisogna anche capire cosa vuol dire in concreto. Allora, la serendipità può essere di vari tipi diversi. C'è una serendipità, fateci caso, debole, che è successa tante volte. Di solito, quando, se vi chiedessi, vi viene in mente qualche caso di serendipità nella scienza? Di solito si cita la penicillina, scoperta da Fleming, quindi tutta la storia degli antibiotici, i raggi X di Roenten, esempi di questo tipo. In realtà non sono vere serendipità, o meglio, sono serendipità molto deboli, perché facciamo l'esempio di Fleming, Alexander Fleming, grandissimo biologo, scozzese di origine, figlio di poverissimi contadini scozzesi, una bellissima storia di uno scienziato che si è fatto veramente da solo, grande microbiologo, studia i batteri, e si fa le ossa a Cambridge sull'osservazione del comportamento dei batteri sulle piastre, sulle piastre di petri, quelle che usiamo ancora adesso, mettiamo i batteri e vediamo che cosa succede se li facciamo interagire con varie sostanze. E lavora per anni e anni e ha in mente un obiettivo, trovare degli antisettici da usare in guerra, perché sapete che a quel tempo si moriva in guerra per le ferite, ma ancora di più per le infezioni delle ferite. A quel tempo una ferita di guerra che si infettava, andava in setticemia molto facilmente e le curavano col carbonchio e con delle cose veramente inefficienti. Quindi immaginatevi cos'era la vita prima dell'antibiotico, prima della penicillina. E cosa voleva dire andare in guerra e ferirsi, avendo praticamente niente poi per disinfettarsi, ok, ma proprio per combattere poi l'infezione quando entrava nel corpo. Quindi il suo obiettivo pagato dall'esercito britannico era questo. voleva trovare quello. Poi certo, scopre la penicillina e vincerà il premio Nobel, come lui dirà nel discorso del premio Nobel, perché è stato molto fortunato. Vi racconto due o tre episodi per farvi capire in cosa consiste la sua fortuna e perché. Questa è una storia che vi fa capire la citazione di Pasteur di prima, il caso aiuta le menti preparate. Fleming era così ossessionato dagli batteri che a un certo punto nel suo laboratorio si mettono a giocare con le piastre di petri con i batteri e si mettono a fare le formine. Cioè, si mettono a usare i batteri di vari colori per fare tipo la bandiera britannica, per fare gli scemi perché in laboratorio poi ci si rompe anche un po' le balle, no? Quindi, ok, ok. Però, attenzione, aveva un occhio preparatissimo sulle forme, ok, e le disposizioni dei batteri su una piastra. Perché dico sta cosa? Perché il primo evento rivelatore succede quando sta lavorando su questi batteri, ha l'influenza e quindi gli cade il muco, gli cadono, gli cade a un certo punto una lacrima sulla piastrina, sulla piastra. Cadendo, la lacrima fa subito un cerchio perfetto, pulito. Questa cosa, quante volte sarà successo? prima, no? Che uno stava lavorando con quei benedetti batteri e gli cade una lacrima. Però lui ha l'occhio preparato, ha la mente preparata perché vede che questo cerchio è dovuto a che cosa? Al fatto che la lacrima è riuscita ad allontanare i batteri. Allora si mette subito a studiare cosa c'è dentro la lacrima che allontana i batteri e scopre gli isozimi. Gli isozimi sono degli antibatterici che noi abbiamo dentro le lacrime perché sapete che le lacrime hanno anche una funzione di pulire l'occhio e di difenderlo dalle infezioni esterne. Quindi, scopre un debolissimo antibiotico è contentissimo pensa di avere fatto bingo in realtà no perché gli isozimi sono troppo deboli quindi non si possono trasformare in un farmaco non si possono condensare e trasformarli in una medicina e quindi è deluso passano anni però c'ha sempre in mente quella cosa lì quindi non è uno che ha scoperto una cosa che non stava cercando ha scoperto alla fine con un sacco di peripezie quello che stava cercando. A un certo punto succede la famosa osservazione che tutti ricordano ma soltanto a questo punto ormai siamo negli anni 30 nel 900 vanno in vacanza quindi fanno le ultime osservazioni a fine luglio vanno in vacanza tornano la terza settimana di agosto tirano fuori le piastrine e si accorge che in un'altra piastra c'è un altro buco a questo punto lui ha la mente preparata non è una lacrima e pensa cosa diavolo c'è dentro questo buco che ha allontanato e ucciso i batteri e scopre che dentro c'è una muffa una muffa di banana e ricostruzione uno dei ricercatori l'ultimo giorno prima di mettere via le piastrine è andato giù in mensa aveva le mani sporche di banana con su questa muffa evidentemente gli è caduta dentro un po' di questa muffa nella piastrina e questa muffa ha un potere antisettico a questo punto ci siamo quasi perché Fleming capisce a questo punto ci sono alcune muffe della frutta che hanno un valore antisettico che hanno un valore antibatterico però quella muffa lì in particolare di nuovo non andava bene nel frattempo ci sono traficiti negli Stati Uniti perché i nazisti hanno cominciato a bombardare l'Inghilterra e come si fa in questi casi nella scienza artigianalità abbiamo capito che le muffe della frutta potrebbero avere un potere antisettico cosa vi verrebbe in mente di fare? facciamo un bel concorso nazionale per tutte le massaie statunitensi affinché ci mandino le muffe della loro frutta fanno così fanno così fanno un campionato arrivano 160 tipi di muffe diverse le provano tutte e a un certo punto salta fuori la muffa di una signora di Peoria dell'Illinois che poi è diventata famosa e l'hanno dato anche un premio che in un melone la muffa del melone la conosciamo tutti che no quando il melone lo lasciate lì quella muffa lì del melone è il penicillium ed è la penicillina così è stata scoperta la penicillina ora uno potrebbe dire è stata solo fortuna sì certo c'è stato un bel ingrediente di fortuna però tenacia ostinazione un'ossessione in mente di trovare questi benedetti antibiotici trovano la penicillina che cambia il destino della guerra poi ovviamente sapete tutta la storia l'inizio della storia degli antibiotici che hanno salvato la vita a milioni decine centinaia di milioni di persone flemmi invece il premio nobel ovviamente e dirà sono un ragazzo fortunato perché sono un ragazzo fortunato perché la serendipity mi ha aiutato ma in realtà non è proprio serendipity avete capito è una mix di caso sagaccia e ha trovato diciamo attraverso tutta una serie di peripezie quello che stava cercando fin dall'inizio questa è una tipologia di serendipità e così ce ne sono tantissime pensate soltanto vi dico solo gran parte delle tecnologie che noi usiamo oggi nella nostra vita sono state scoperte così ok il teflon il nylon il velcro è una storia classica il velcro è una storia di serendipità un po' più forte perché il velcro è una scoperta veramente casuale di uno che aveva la mente preparata l'ha fatta a De Mestrale un ingegnere svizzero è in vacanza sulle Alpi svizzere sulle Alpi bernesi e a un certo punto col suo cane a un certo punto si accorge che c'è una pianta la bardana che si attacca al pelo degli animali a questa tecnica che hanno molti semi di queste piante che usano il pelo degli animali come veicolo di trasmissione lui però ha la mente preparata perché era un ingegnere molto ferrato nell'analisi delle forme delle superfici porta a casa il fiore della bardana capisce che il meccanismo è fatto da piccolissimi uncini che si attaccano alle asole del pelo degli animali e allora gli viene in mente che se va a due superfici una con delle micro asole e l'altra con dei micro uncini e tu le attacchi insieme ha trovato il modo per incollare delle superfici senza usare un elemento chimico ulteriore che è il collante e inventa il velcro che poi viene usato dagli astronauti in orbita viene usato nelle nostre scarpe nelle nostre pullover e così via quindi le nostre giacche a vento eccetera quindi questa è una scoperta di una che aveva la mente preparata e che si è trovato davanti un'osservazione che gli ha permesso di fare una scoperta eccezionale la medicina è piena di scoperte essere indipitose in questo senso la farmacologia quanti farmaci sono stati studiati stata fatta la molecola o stata trovata in natura la molecola come con l'aspirina acido accessi il salicilico e così via e poi cammin facendo utilizzandola scopri che ha anche delle funzioni completamente indipendenti da quelle che ti hanno portato alla scoperta di quella molecola e quindi le usi per tutt'altro come appunto anche nel caso tra l'altro dell'aspirina per il cuore eccetera come anticoagulante e così via questo è normale in ambito farmacologico e anche questa è serendibilità ok l'esempio forse più famoso è sicuramente quello del Viagra che sicuramente conoscerete che ha fatto la fortuna della Pfizer Viagra era una molecola che è stata ricercata lungamente in ambito cardiologico quando superano i vari step della sperimentazione arrivano in campo umano quindi fanno la sperimentazione in campo umano come succede nove volte su dieci non funziona quindi una delusione non funziona questa molecola in ambito cardiologico e allora cosa fanno i ricercatori me l'ha raccontato proprio un ricercatore che è stato coinvolto nella ricerca ovviamente per smettere di buttare via soldi nella sperimentazione chiedono indietro il farmaco che hanno dato a tutti i volontari e i volontari maschi non vogliono restituire le pillole e i ricercatori continuano la chiedendo dovete restituirci perché dobbiamo capire perché non funziona e i maschi non restituiscono le pillole e poi chiedono perché alla fine capiscono e ecco serendibilità ok questo è un altro classico esempio di serendibilità la Pfizer peraltro è stata protagonista poi di un'altra storia di serendibilità che è esattamente quella che ci ha riguardato qui c'è stato Beppe Remuzzi ve l'avrà raccontato lui ma i vaccini a mRNA sono una storia di serendibilità bellissima no perché cos'è successo all'inizio della pandemia che è una storia che vi ho già raccontato ma all'inizio della pandemia succede grande investimento economico per cercare i vaccini anti-covid e anche qua guardate come funziona la creatività scientifica alcuni gruppi cosa fanno vanno sul mainstream vanno sul noto quello che si sa già quindi virus attenuato Johnson & Johnson e così via quindi lavorano sul cercare di attenuare un virus in modo da far generare l'immunità acquisita anti-covid e poi ci riescono altri cosa fanno cercano una strada alternativa perché nella scienza non è che dobbiamo andare tutti all'unisono perché altrimenti vince solo uno se riesci a trovare una strada alternativa è molto meglio tra l'altro perché hai due strategie diverse e alcuni decidono di sperimentare una strada artigianale ovvero abbiamo poco tempo dobbiamo trovare questo veneto vaccino rapidamente dobbiamo forzare in tutti i modi la sperimentazione cosa facciamo cerchiamo se in laboratorio abbiamo già qualcosa che possiamo riusare e gli viene in mente di riusare dei vaccini a RNA che si usavano già e che erano stati un fallimento erano stati un fallimento per la viaria si era provato a usarli in ambito oncologico come vettori per portare il farmaco a colpire le cellule tumorali e funzionava purtroppo non funziona tanto bene neanche lì quindi era una linea di ricerca insomma che stava entrando in un vicolo cieco un famosissimo premio Nobel che non cito per il suo onore disse cosa da non fare mai nella scienza non riuscirete mai a fare un farmaco un vaccino con l'mrna ok quindi smettete di spendere soldi in quello invece qualcuno tenace è andato avanti arriva il covid e questi qua dicono già proviamo proviamo anche con quelli a'mrna provano e col coronavirus per tutta una serie di motivi biologici funziona per nostra fortuna e sono venuti fuori dei vaccini completamente nuovi totalmente inaspettati a'mrna per un coronavirus cioè una roba che non era mai stata pensata per i vaccini mrna ecco questa è l'artigianalità con cui funziona la scienza questo è uno di tantissimi esempi ma ce ne sono tanti altri cioè si usa quello che c'è a disposizione in modo opportunista alla bisogna si fa di necessità virtù e lo si riutilizza per qualcosa di nuovo questo è successo tantissime volte in ambito scientifico vado verso la conclusione perché non voglio ti darvi troppo poi do la parola a voi qual è la serendipità che a me interessa di più vi fermo vi trattengo ancora qualche minuto su questo è quella come diceva Alberto all'inizio in cui veramente possiamo dire che lo scienziato stava cercando qualcosa e sappiamo cosa stava cercando e poi durante il processo di ricerca trova tutt'altro qui ci sono tanti esempi meno di quegli altri ma ce ne sono di molto significativi il velcro di prima è un esempio che va abbastanza bene la scoperta delle pulsar è un altro esempio gente che stava studiando sorgetti radio per tutt'altra ragione a un certo punto sente questa pulsazione il capo del dipartimento pensa che sia un errore e quindi è propenso a buttare via questa osservazione una dottoranda la Jocelyn Bell invece insiste tenace dice no questo è strano questo non è un errore questa è una sorgente regolare sono delle pulsazioni regolari potrebbero essere delle stelle che ruotando molto velocemente oggi lo sappiamo stelle e neutroni lanciano e ci fanno arrivare questa pulsazione il suo capo non le crede cerca in tutti i modi di scoraggiarla lei insiste pubblica una memoria con questa ipotesi e poi si scoprirà che aveva ragione lei sapete che ha vinto il premio Nobel? lui non lei ok e vabbè la scienza è maschilista quindi lui che non ci credeva e che poi ha firmato soltanto dopo il lavoro ha vinto il premio Nobel e lei Jocelyn Mann no tra l'altro lei era giovanissima è ancora viva adesso è una signora di una certa età ma ancora attiva ed è diventata una paladina dei diritti delle donne nella scienza meravigliosa quindi invitatela a fare un discorso qua perché è una donna meravigliosa Jocelyn Mann la scopritrice delle pulsar premio Nobel mancato una delle tante donne premio Nobel mancati ora queste sono tutte scoperte serendipitose più forti la radiazione cosmica di fondo un'altra bellissima scoperta serendipitosa che forse è una storia molto bella anche questa questi due scienziati che lavoravano alla Belle quindi in un'azienda perché anche la ricerca applicata la ricerca aziendale ha portato delle grandi serendipità non soltanto la ricerca pura pura pubblica per esempio delle grandi aziende in passato la Dupont la Belle grandi aziende chimiche adesso purtroppo non più perché il mondo è cambiato ma una volta avevano i famosi dipartimenti di ricerca di base cioè queste aziende avevano capito che dovevano ovviamente finanziare la ricerca sui prodotti già forti e simili a quelle che avevano già però avevano capito che se loro destinavano un 10% un 15% del loro fatturato per finanziare dei dipartimenti in cui dell'agente intelligente lavorava per le sue domande di ricerca quindi gli davano i soldi diciamo fai quello che vuoi fatti delle domande cerca nuove molecole nuovi principi attivi fai quello che vuoi beh da quei dipartimenti di ricerca di base sono venute fuori le tecnologie più straordinarie che hanno fatto la ricchezza di quelle aziende perché questo è un altro dei paradossi interessanti della serendipità se tu finanzi ricerca già consolidata sai che avrai dei ritorni bassi ma li avrai quindi basso rischio basso ritorno ma se finanzi ricerca rischiosa hai alto rischio quindi 9 volte su 10 è un buco nell'acqua ma quando azzecchi la scoperta serendipitosa quella ti dà un ritorno economico che vale più di tutti quelli applicativi del primo tipo questa è una regola che abbiamo verificato tantissime volte in ambito scientifico un altro esempio è quello che vi ho descritto in una precedente conferenza che è il gene editing vi ricordate il gene editing chi c'era no? è questa straordinaria forbice molecolare che ci permette di fare il copy and call del DNA e se vi ricordate quella storia già lì mi stavo occupando di serendipità perché quella è una storia serendipitosa cosa è successo? che 15 anni fa in tre laboratori nel mondo dei miei colleghi microbiologi quindi esperti di batteri e virus si sono fatti una domanda ma senza nessuna ambizione che potesse avere un'applicazione nessuna aspettativa la domanda carina interessante era come fanno i batteri a difendersi dai virus qual è il sistema immunitario dei batteri perché sappiamo che batteri e virus si combattono da miliardi di anni sono i grandi nemici questo è il motivo per cui se prendete un antibiotico sbagliato e siete stati attaccati da un virus state aiutando il virus perché state sconfiggendo i suoi nemici quindi batteri e virus si combattono da sempre scoprono che i batteri hanno inventato una forbice molecolare cioè quando vengono attaccati da un virus cosa fanno? gli staccano un pezzo del materiale genetico se lo infilano dentro e diventa una memoria immunitaria la volta dopo sono immuni perché hanno già dentro la memoria dell'attacco di quel virus scoperta bella interessante finanziata con 40.000 dollari cioè niente una ricerca a 40.000 dollari in tre laboratori niente ci paghi una borsa di studio giusto? da questa scoperta cominciano a rotolare la pietra perché si capisce che può essere usata anche nelle cellule eucariotiche quindi le nostre e si capisce che può essere ingegnerizzata e quindi diventa una tecnologia cioè si può usare questa forbice molecolare per fare il copia e incolla del DNA che vuoi tu e oggi questa biotecnologia ha cambiato il mondo e noi la usiamo in tutti i dipartimenti e pensate per spiegarvi la regola di prima adesso ci sono tre aziende quotate a Wall Street che fanno solo gene editing ed è partito tutto con un finanziamento di 40.000 dollari cioè una redditività di questo investimento pazzesca il problema qual è ovviamente che non puoi prevederla non è che poi non c'è una formula magica per dire metto 40.000 dollari in quella ricerca lì e poi avrò tre aziende quotate a Wall Street non c'è e questo è l'elemento di imprevedibilità profonda che la serendipità dà alla scienza che arreca alla scienza radiazione cosmica di fondo stavo dicendo due Bell quindi un'azienda ancora una volta una storia privata questa la Bell inventa un'antenna molto particolare che usavano per mappare i satelliti i spostamenti dei primi satelliti quelli che avevano chiamati Balloons a quel tempo la tecnologia cambia i satelliti vengono fatti in un altro modo l'antenna non serve più la Bell fa una cosa intelligente dà questa antenna al dipartimento di ricerca di base cioè non ci serve più questa antenna vi serve volete farci qualcosa due fisici che lavoravano a Bell dicono sì dai dàcela che la mettiamo in un campo e proviamo a vedere se ci può aiutare a mappare le sorgenti radio che vengono dal cosmo domanda di ricerca di base la puntano questa bellissima antenna a orecchio la vedete online vedete anche l'immagine potete cercarla è molto bella c'è ancora adesso una reliquia lì a Princeton perché era vicino a Princeton è successo tutto questo la puntano verso il cielo e cominciano a sentire sorgenti radio il sole c'è una piccola sorgente radio i pianeti le stelle bello e iniziano a fare tutto un lavoro però ovunque la puntino qualsiasi sorgente sentano sotto c'è sempre un rumore fisso nelle microonde e loro dicono ma cos'è sto rumore sarà come fanno sempre i fisici noise cioè ci sarà qualche sorgente di rumore e allora come fanno i fisici giustamente cominciano ad andare per esclusione sarà New York che fa un casino pazzesco per definizione ma no non funziona perché la sorgente arriva da tutte le direzioni del cosmo e non ha orari quindi non è una città non è una sorgente umana pensano a una sorgente radioumana e la escludono a un certo punto pensano che sia il guano degli piccioni che hanno fatto il nido vicino all'antenna e un paio anche nell'antenna perché il guano è dielettrico e può creare questo effetto quindi cosa fanno? prendono i piccioni e li spostano lontano ma sono degli uccelli migratori e quindi li spostano sei volte e tornano continuamente all'antenna e quindi dopo la sesta volta dicono i due Arno e Pensia si chiamavano così sacrificano questi animali per la scienza quindi li ammazzano tutti fanno fuori tutte puliscono tutte le sorgenti radio attorno e quel quel rumore quel noise rimane e rimane per mesi e mesi tra l'altro attenzione anche quel noise lì era già stato ascoltato un sacco di volte ma nessuno l'aveva interpretato qui c'è la serendipità perché lì vicino c'è Princeton a Princeton ancora si discuteva di una vecchia ipotesi che ormai era stata quasi abbandonata che si chiamava Big Bang il grande botto che era stata chiamata così proprio per dire figurati il grande botto figurati se l'universo è nato da un grande botto sembra la Bibbia non può essere ok Einstein stesso che era lì a Princeton disse che era un'ipotesi non plausibile quindi se lo diceva lui figurati ma fu uno dei famosi errori di Einstein perché invece alcuni di questi cosmologi dissero a loro due a Pences e Wilson ma guarda se vuoi controllare ancora una volta torniamo all'inizio una delle previsioni delle predizioni del Big Bang è che dovrebbe esserci ancora adesso un eco fossile antichissima debolissima ma dovreste ancora sentirla dovrebbe essere nel microonde e dovrebbe essere fatta così loro tornano all'antenna fanno l'osservazione scoprono che coincide esattamente con la predizione del Big Bang pubblicano un articolo coraggiosissimo su Science dove dicono abbiamo ascoltato l'eco del Big Bang li prendono per matti per qualche mese come succede sempre nella scienza poi vanno a controllare e vincono il premio Nobel tre anni dopo per avere effettivamente scoperto quella che noi oggi chiamiamo la radiazione cosmica di fondo così funziona la scienza artigianale però qui la mente preparata in cosa consiste ostinati precisi non hanno buttato via quell'osservazione lì e poi sono stati fortunati perché c'è qualcuno che gli ha detto che poteva essere una predizione poteva essere la conferma di una predizione e poi non perdersi d'animo perché nella scienza anche questo bisogna dirselo onestamente spesso le grandi scoperte soprattutto queste quelle che noi chiamiamo breakthrough cioè quelle che rompono un paradigma vengono osteggiate dal resto della comunità scientifica e lì o hai torto e allora è meglio che ti arrendi subito se vedi che la tua ipotesi non funziona ma se hai delle buoni argomenti devi resistere a questa a questa reazione conservatrice perché la scienza è conservatrice la comunità scientifica tende a essere conservatrice perché vuole vedere i fatti le prove prima di cambiare un paradigma giustamente e quindi funziona così come disse una volta un grande biologo evoluzionista J.B. Saldane secondo me vale anche un po' in politica questa cosa ma lui disse nella scienza quando c'è una scoperta nuova veramente importante questa scoperta attraversa sempre tre fasi la prima fase è che tutti gli altri dicono non è possibile è sbagliata la seconda fase è è possibile forse è giusta ma non è importante la terza fase è è vera è giusta è importante ma ci avevo già pensato io ok questo è tipico ok è sempre così nella scienza quando c'è la terza fase vuol dire che hai fatto una scoperta importante quando gli altri ti dicono l'avevo già pensato io vuol dire che hai scoperto qualcosa di è successo anche a me per almeno tre casi ovviamente ubi ubi minor ovviamente ora chiudo perché non voglio rubare di troppo tempo e voglio lasciare la parola a voi adesso allora questa serendipità forte è quella in cui veramente trovo qualcosa mentre stavo cercando tutt'altro vi faccio soltanto un ultimissimo esempio perché voglio chiudere con questo e poi ditemi voi cosa ne pensate ci sono dei casi di serendipità forte che sono molto misteriosi ed è il vero mistero della serendipità quindi ve lo lascio alla fine per esempio a volte nella scienza degli scienziati scoprono una soluzione a un problema che ancora non c'è cioè prima trovano la soluzione e poi si scopre dopo un po' che era la soluzione a un problema nuovo che a quel tempo non c'era esempio sembra strano ma esempio uno fra i tanti Edouard Benedictus francese biochimico siamo alla fine dell'ottocento sta studiando i polimeri le protoplastiche studia il collodio vari altri esempi cellulose a un certo punto osservazione casuale gli cade una fiaschetta nel laboratorio e osserva che questa fiaschetta ovviamente va in frantumi il vetro si rompe ma la forma della fiaschetta rimane cioè il vetro è rimasto insieme anche se è tutto rotto questa cosa lo incuriosisce osserva perché e scopre banalmente che dentro si era formata si era solidificata una pellicola di collodio che teneva insieme dal di dentro trasparente quasi trasparente il vetro e lui non l'aveva vista fine fine dell'osservazione però non la butta via la tiene la mette in un armadietto e segna come devono fare i bravi scienziati Darwin lo faceva sempre data e ora e osservazione fatta punto la mette in un armadietto passano 15 anni lui nel frattempo fa tutt'altro passano 15 anni Benediktus legge sul giornale che per le strade di Parigi tutto questo avviene a Parigi c'è un problema nuovo cominciano a girare le prime autovetture e le autovetture hanno il parabrezza ora cosa succede a queste autovetture quando c'è un incidente il parabrezza va in frantumi e ferisce molto gravemente tutti tutti quelli che c'erano sulla macchina il conducente e gli altri passeggeri in particolare legge rimane molto colpito dalla storia della storia di una bambina che un incidente il vetro si rompe rimane completamente sfigurata questa bambina sopravvive ma è completamente sfigurata torna nel suo cassetto nel suo armadietto tira fuori la fiaschetta e capisce che se noi prendiamo due pellicole di vetro in mezzo ci mettiamo due lastre di vetro in mezzo ci mettiamo una pellicola di collodio il vetro si rompe ma non va in frantumi non ferisce i passeggeri inventa il vetro infrangibile lo brevetta nel 1909 e verrà utilizzato per la prima volta sugli aerei nella prima guerra mondiale diventa ovviamente miliardario tant'è che smette di fare ricerca scientifica succede spesso e diventa il principale finanziatore dell'art déco parigina quindi adesso se cercate Benedictus è l'art déco bella carina gli anni 30 anni 20 30 a Parigi ma tutto era nato da una serendipità fortissima in questo caso perché è uno che ha trovato una soluzione prima che ci fosse un problema ora e chiudo il cerchio fate caso questa è una storia vabbè divertente tecnologica ok però quante volte nella scienza per esempio un matematico giocando quindi senza nessuna ambizione di applicazione i matematici giocano non si offendono se gli origini nel senso che costruiscono dei linguaggi ovviamente rigorosissimi sulla base di simmetrie regole eccetera combinazioni e per esempio fanno non so il calcolo delle matrici le geometrie di Riemann i numeri complessi pensate le geometrie di Riemann cosa sono è un gioco meraviglioso come sarebbe il mondo se obbedisse a una geometria in cui non vale il quinto postulato di Euclide il quarto se li cambiamo e poi portiamo alle estreme logiche conseguenze viene fuori una geometria alternativa che non c'è che non è applicabile e non solo posso fare anche un catalogo di geometrie non Euclidee di tutte geometrie possibili ma che non esistono perché noi viviamo in un mondo Euclideo ovviamente che ha funzionato benissimo fino adesso Riemann lo fa muore poi giovanissimo di tubercolosi a 42 anni anni 60 dell'ottocento e tutta questa storia finisce sostanzialmente la metà dell'ottocento cosa succede? succede che 70 anni dopo e questo è uno dei grandi misteri della scienza Einstein formula la teoria della relatività generale e si accorge tra l'altro grazie a un suggerimento di due matematici italiani Tullio Levi Civita e Ricci Curbastro che sono stati fondamentali per la sua scoperta si accorge che una delle geometrie di Riemann una geometria sferica di Riemann è esattamente la geometria che descrive com'è il mondo in particolare com'è il mondo dello spazio-tempo e della massa che cuba lo spazio-tempo quindi della relatività generale come diavolo è possibile che nella mente di Riemann 70 anni prima fosse venuta fuori una geometria che Riemann non poteva saperlo è la geometria che descrive veramente com'è l'universo davvero perché Einstein supera Newton e quindi supera tutta la meccanica classica e la ingloba dentro una visione più ampia che ha bisogno di una geometria diversa che è la geometria di Riemann questo è uno dei più vertiginosi misteri della scienza che noi stiamo cercando di indagare e capire perché perché la matematica è capace di trovare delle soluzioni a un problema che ancora non c'è e che viene fuori dopo un secolo in un campo di studi completamente diverso rispetto a quello che ha pensato a quel linguaggio matematico l'ha detto benissimo un grande matematico Jacques Adamard francese capostipite della teoria del caos il nonno di Giorgio Parisi cioè quello che ha iniziato tutte le ricerche che poi ha portato al Nobel nonno scientifico non reale di Giorgio Parisi e Jacques Adamard ha scritto un libricino bellissimo leggetelo molto bello si chiama la psicologia dell'invenzione in campo matematico che sembra una roba difficile ma è bellissima a un certo punto Adamard dice una cosa molto bella dice tutti pensano che gli scienziati e i matematici tra questi di mestiere facciano questo sono come dei pittori che entrano in una stanza hanno la tela una finestra chiusa cosa fanno? aprono la finestra guardano un paesaggio e poi prendono pennello e colori e rappresentano il paesaggio Adamard dice la scienza non funziona così la scienza è una cosa diversa dice Adamard è il pittore entra nella stanza ha la tela disegna il più bel paesaggio che gli viene in mente poi apre la finestra e cerca di capire se c'è qualche corrispondenza tra quello che ha disegnato e quello che c'è là fuori se c'è qualche corrispondenza ha scoperto qualcosa di importante ora questa è una metafora molto bella molto profonda perché dice sostanzialmente questo che il segreto della scienza non è aprire la finestra ancora una volta dati e descrivere i dati il segreto della scienza è la meraviglia ed è la fantasia è l'immaginazione un'immaginazione rigorosa ovviamente perché ha disegnato quel paesaggio perché ha visto tanti paesaggi prima nella sua vita quel pittore lì poi disegna quello e cerca di capire quanto corrisponde quindi c'è un atto creativo nella scienza non è soltanto passiva la scienza è un atto attivo di anticipazione del mondo ecco perché sono partito dal fatto che quei tre principi riescono a prevedere l'esistenza di un oggetto che non hanno mai visto è come la tela e il paesaggio potremmo dire che il paesaggio è una simulazione di un mondo possibile solo che qualche volta le simulazioni di mondi possibili dentro la nostra testa guarda caso poi corrispondono veramente alla realtà che c'è là fuori e quando succede è una serendipità ovviamente ed è la più misteriosa di tutti la più bella di tutti è quella che un grande Nobel del passato Eugene Wigner Mel per la fisica disse è la misteriosa irragionevole efficacia della matematica la matematica funziona ma non sappiamo perché uno potrebbe dire perché il mondo è matematico ma vi assicuro che è una risposta che non funziona o forse perché il nostro cervello si è evoluto dentro questo mondo e quindi non è che il mondo è matematico è che noi abbiamo inventato la matematica per dare un senso al mondo e quindi possiamo anticipare anche delle parti del mondo che ancora non abbiamo osservato non sappiamo qual è la risposta è ancora un mistero irrisolto però è forse la serendipità più bella di tutte quindi per concludere il messaggio è un po' questo vedete la serendipità si può dire in tanti modi diversi è la caccia agli indizi che ti permettono di scoprire di prevedere l'esistenza di un oggetto che non hai mai visto è il trovare quello che stai cercando alla flaming ma per vie traverse e sapendo cogliere le occasioni che il caso e la fortuna ti offrono ed è a volte anche invece ed è quella che interessa di più a me il trovare qualcosa che veramente non stavi cercando e riuscire a capire che la scienza è questa capacità immaginativa perché in fondo se ci pensate e questo la pandemia purtroppo ce l'ha insegnato ma noi lo sapevamo anche prima nella scienza ci sono cose che noi sappiamo di sapere e sono quelle che i nostri noi siamo come nani sulle spalle dei giganti quelle che sono venuti prima di noi ci hanno insegnato tante cose e quelle le sappiamo e sappiamo di saperle e partiamo sempre da quelle ovviamente perché la roccia su cui devi basare poi qualsiasi ricerca poi però ci sono delle cose che sappiamo di non sapere giusto? fateci caso cioè ci sono cose che io non so ma so di non saperle so per esempio noi sappiamo di non sapere quante specie biologiche ci sono sulla terra lo sappiamo perché ne abbiamo battezzate due milioni due milioni poco più ma ce ne sono almeno il triplo là fuori insetti microorganismi virus che non conosciamo non abbiamo ancora e lo sappiamo che non lo conosciamo quindi siamo ignoranti e purtroppo durante la pandemia siamo stati colpiti proprio da uno di questi su cui eravamo totalmente ignoranti era lì nascosto si è ricombinato e ci ha colpito ma sappiamo di essere ignoranti giusto abbiamo gli strumenti per sapere di essere ignoranti ignoranza è importantissima nella scienza ne abbiamo già parlato altre volte è il motore generativo di tutte le domande però poi pensateci c'è una situazione in cui voi noi nemmeno sappiamo di non sapere giusto questo è il famoso principio di Rumsfeld non so se lo sapete il principio di Rumsfeld conoscete il principio di Rumsfeld vi racconto solo questo il principio di Rumsfeld si chiama così ricordate Donald Rumsfeld il segretario degli Stati degli Stati Uniti durante George Bush presidente durante la guerra in Iraq è quello che sapete che poi c'è stata tutta la questione delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein che non sono mai state trovate allora a un certo punto la Camera dei Deputati convoca Rumsfeld che diciamo non era noto per essere particolarmente brillante diciamo come persona e alla Camera dei Deputati arrivano alla domanda fondamentale ma lei sotto il segretario di Stato sapeva o non sapeva dell'esistenza delle armi di distruzione di massa in Iraq e lui non abbiamo ancora capito come tira fuori una risposta geniale dice cari colleghi noi alcune cose sappiamo di saperle altre sappiamo di non saperle altre non sappiamo neanche di non saperle io dell'esistenza delle armi di distruzione di massa in Iraq non sapevo neanche di non saperlo se c'erano ora non abbiamo ancora capito adesso perché ha risposto così però la risposta è geniale nel senso che è proprio quello che succede nella scienza nel senso che nella scienza a volte non sai di non sapere ultimissimo esempio di serendipità che fa capire questo noi a un certo punto avrete avuto ospiti fisici importanti no? il mio amico Guido Tonelli e così via noi cosa abbiamo loro cosa scopre Guido Tonelli bosone di X sono partito da lui quindi finisco calcolano sulla base dei calcoli della rotazione delle galassie si accorgono che i conti non tornano e che per far tornare i conti bisogna ipotizzare l'esistenza di una materia oscura di cui non sappiamo niente calcolano l'accelerazione inflazionale iniziale dell'universo i conti non tornano a meno che non ci sia nell'universo una enorme quantità di una roba che non sappiamo cos'è che si chiama energia oscura se metti insieme energia oscura e materia oscura viene fuori il 95% di tutta la materia e l'energia che ci sono nel cosmo quindi come ci insegna Guido Tonelli questo cosa vuol dire? vuol dire che tutta la meravigliosa cavalcata della fisica moderna da Galileo a Newton e poi a tutti gli astrofisici e poi a Einstein e poi la meccanica quantistica e tutta questa meravigliosa cavalcata ha studiato fino adesso il 5% di tutto quello che c'è nell'universo il restante il 95% chi lo sa sul restante il 95% dobbiamo studiare siamo ignoranti dobbiamo farci nuove domande cercare di capire nuovi modelli nuove ipotesi nuovi esperimenti però capite questo è un esempio in cui noi non sapevamo di non sapere perché è venuta fuori una scoperta che ci ha fatto capire non soltanto che eravamo ignoranti ma che non sapevamo neanche di esserlo e non sapevamo di esserlo in queste dimensioni perché il 95% è veramente una dimensione di ignoto vastissimo ok se volete una rappresentazione bellissima di questo adesso fino alla metà di dicembre mi pare alla triennale di Milano se passate per Milano c'è una mostra molto molto bella curata da Ersilia Vaudo un'astrofisica che si intitola proprio Unknown Unknowns cioè sconosciuti ignoti sconosciuti ed è proprio una mostra che con un sacco di esempi molto belli c'è anche una mia parte sull'origine della vita racconta tutti i casi in cui abbiamo scoperto di non sapere di non sapere e questa è una cosa meravigliosa della scienza perché chi vi saprà mai dire cosa non sappiamo di non sapere domani tra un anno tra cinque anni no? è una sfida all'ignoto infinita che non ha fine è una ricerca senza fine no? che rende imprevedibili le scoperte scientificiche quindi per concludere davvero non credete mai a quelle che vi dicono tipo cosa ci resta da scoprire in fisica mai ok cosa possiamo prevedere di scoprire tra vent'anni in biologia impossibile rispondere ok chi ci ha provato ha fatto delle figure barbine ok la più famosa di tutte è quella di William Kelvin il grande Thompson il grande padre della fisica della termodinamica in Inghilterra siamo verso la fine dell'ottocento un giornalista lui era un po' tronfio il giornalista gli chiede professore maestro cosa ci resta a scoprire in fisica e lui tutto sicuro fa dopo la termodinamica ci resta a scoprire qualche dettaglio sulla meccanica del sistema solare e poi direi che abbiamo concluso ok dopo tre anni viene fuori la meccanica quantistica e dopo cinque anni la relatività ristretta di Einstein e cambia il mondo ok mai fare previsioni nella scienza e questo è il bello del mio mestiere perché se ci pensate vuol dire pensate il mio mestiere è il dipartimento di biologia a Padova chi è venuto quindici vent'anni facciamo vent'anni prima di me lì in quel posto non ha previsto minimamente quello che abbiamo scoperto noi il gene editing non era neanche nei sogni di chi aveva la cattedra vent'anni fa venticinque anni fa nel mio dipartimento e così via un enorme la fotosintetà artificiale un sacco di ricerche erano al di fuori dell'immaginazione di quelli che lavoravano lì trent'anni fa quindi adesso che sono arrivati i nuovi studenti nuove matricole nelle nostre classi io devo pensare razionalmente la stessa cosa quando guardo degli occhi quei ragazzi in quelle ragazze in quei ragazzi ci sono sicuramente delle scoperte che io adesso non riesco neanche ad immaginare e questo a me dà una grandissima speranza perché spero che molte di quelle scoperte ci aiuteranno anche a venire fuori dei guai tremendi in cui ci siamo infilati da soli e ho finito ma vi ringrazio iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video Rinascimento Culturale ti ringrazia